E' l'ora delle attività legate al food, mentre vengono meno quelle tradizionali, e quanto emerge da un report di confesercenti e dati di nuovi imprese, a soffrire maggiormente l'abruzzo interno che denuncia una situazione drammatica. Nella provincia dell'Aquila il numero di negozi è sceso del 42,2%, record in Italia, con un calo considerevole anche nel settore turistico, meno 7,49%. La ristorazione fuori casa assume un ruolo sempre più rilevante anche nelle scelte delle famiglie. A fronte di una capacità di spesa scesa in dieci anni del 6,5% rispetto al 2006, gli abruzzesi spendono di più per ristorazione e ricettività, più 1,7%, per le bevande alcoliche e i tabacchi, più 0,9%. Ma le voci cresciute di più durante la crisi in Abruzzo sono l'istruzione dei figli, più 31,1%, le spese per l'abitazione, più 3%, i servizi sanitari, più 0,5%, a fronte di risparmi consistenti negli acquisti in abbigliamento, meno 26%, comunicazione, meno 23,7%, mobili e articoli di casa, meno 17%. Se nel panorama regionale crollano i negozi tradizionali, a Sulmona sono le attività in centro storico, che non ce la fanno a mantenere alta la sera cinesca. Da Porta Napoli a Piazza Carlo Tresca si contano almeno 39 negozi sfitti, 28 solo da Porta Napoli a Piazza del Carmine, nella zona sud del Corso. Un dato che dovrebbe far riflettere non solo gli addetti lavori, ma anche le istituzioni.